Benvenuti ad una nuova puntata di FM Sport, il notiziario sportivo settimanale della Federazione Motociclistica Italiana. In questa puntata vi parleremo di il Mondiale Moto3 a Barcellona che ha visto gareggiare due piloti del Team Italia, Romano Fenani e Alessandro Colucci. Il campionato mondiale motocross MX1 e MX2 con uno scatenato Antonio Cairoli che fa man bassa di punti e vittorie in Francia. Il campionato italiano motorelli con la quarta e quinta prova a corsa a Gioia dei Marsi in Abruzzo. Sfortuna ed orgoglio. Nel Mondiale Moto3 andato di scena sul circuito di Barcellona, i piloti del Team Italia vivono una domenica alquanto altalenante, caratterizzata da molta malasorte e da una determinazione feroce nel reagire alla stessa. Romano Fenati, uscito largo alla prima curva per evitare un contatto, chiude il primo giro al 17esimo posto, ma non si perde d'animo e inizia a martellare giri veloci che gli consentono di guadagnare diverse posizioni. Alla fine chiude nella top 10, al nono posto, subito dietro al gruppo dei migliori, conservando così la quarta posizione nella graduatoria generale. Peggio è andato all'altro pilota del Team Italia, Alessandro Tonucci, che a metà corsa, in piena rimonta dalle retrovie, scivola e perde così ogni chance di terminare a punti la gara, che conclude invece in ventottesima posizione. Sventola il tricolore in terra transalpina. Nella località di Saint-Jean d'Angeli, dove andava di scena la sesta prova del mondiale motocross MX1, Antonio Cairole torna il cannibale di sempre e pittura il circuito francese di tricolore facendo il pieno di punti. Il siciliano, ben motivato a cancellare l'opaca prova offerta in Brasile, si trova magnificamente a suo agio su un circuito tecnico e veloce e regala una guida a tratti superba. Nella prima gara della MX1, Antonio Cairole già alla partenza riesce ad avere un ottimo spunto e, grazie alla sua guida pulita ed aggressiva, lascia subito intendere che sarà un weekend trionfale per lui. Alle sue spalle c'è battaglia per le posizioni che contano. Poleni rimonta Scavacca con Calves e si porta al quarto posto, mentre c'è da sottolineare nelle retrovie il sorpasso di Dendiger sul carro. E mentre Desailly raggiunge e supera con Calves, Polen mette nel mirino prima Xavier Buc e poi Porcel, riuscendo in entrambe le occasioni a sovraavanzarli. Gara 1 si conclude così con Cairoli che transita solitario sotto la bandiera a scacchi, con Gatier Polen a due secondi da lui e Christophe Porcel a 15, mentre al decimo posto si piazza l'altro azzurro David Philippe Herz. In gara 2 Antonio Cairoli non è per nulla pagato per quanto è successo in gara 1 e alla partenza conquista subito lo shot con uno spunto da manuale. Cairoli però commette un piccolo errore ed è passato da Stiva in Frossat, che per quasi metà gara guida la corsa prima di cedere nettamente alla distanza, scavalcato anche da Philippe Herz che chiuderà la sua gara a quinto posto. C'è Bagarre per le posizioni immediatamente a ridosso del podio, con Polen che nelle fasi finali beffa Desailliers, mentre davanti a loro Porcel scavalca Philippe Herz e si mette all'inseguimento dell'imprendibile Cairoli. Alla bandiera scacchi è ancora lo scatenato siciliano a vincere davanti ai due francesi Christophe Porcel e Gautier Polen, mentre cala nettamente sul finale di una splendida corsa l'altro azzurro Philippe Herz che conclude quinto. La classifica assoluta di giornata è dunque conquistata proprio da Antonio Cairoli, che grazie a questo è in plen di successi a lunga deciso in classifica, che ora conduce con ben 41 lunghezze di vantaggio su Christophe Porcel. Nella MX2, vinta da Jeffrey Ehrlings, grazie a un primo posto in gara 1 e a un secondo in gara 2, l'azzurro Alessandro Lupino non brilla nella prima manche, ma fa sesto nella seconda, confermando così di essere in crescita. La quarta e quinta prova del campione a Zagliano Motorelli sono approdati in Abruzzo, nei bellissimi scenari montagni attorno a Gioia dei Marsi, a due passi dai parchi nazionali d'Abruzzo e Sirente-Velino. Un doppio appuntamento molto intenso, perfettamente organizzato dal motoclub Sirente, che ha proposto percorsi di ottimo cuoristrada e prove speciali molto lunghe e navigate. A far compagnia la folta pattuglia del campione a Zagliano, si sono presentati per l'occasione anche i poriclassi catalani Jordi Villadoms e Gerard Farè, al fieri assieme a Paolo Ceci del team Bordone Ferrari. Occasione preziosa quella abruzzese per allenarsi nella navigazione all'italiana in vista del Mondiale in Sardegna. E i due campioni sono stati i monopolizzatori della prima giornata, con Jordi Villadoms che è stato il più veloce di tutti, distanziando di 40 secondi il connazionale Farè. Molti dei big hanno fatto le spese di una navigazione complicata, tra i quali Andrea Mancini e Alex Zanotti, mentre Matteo Graziani non si è fatto sorprendere, conquistando un meritato terzo gradino del podio che lo ha proiettato provvisoriamente in testa al campionato, con un buon margine di 12 punti sul più immediato inseguitore. Porto posto al sabato per Fabio Benetti, seguito dalla giovane promessa del team US1 a CF Racing Luigi Martellozzo. Classifica rivoluzionata la domenica, dove questa volta a sbagliare è stato proprio Matteo Graziani. A battere le furie catalane ci ha dovuto pensare Andrea Mancini, che vincendo entrambe le speciali, è riuscito a sovravvanzare i Villadoms di quasi due minuti. Una grande vittoria quella del portacolori della beta, che lascia ben sperare per l'imminente Sardegna Rally Race, dove il Perugino è da qualche anno un avversario molto pericoloso per i cuoriclasse di livello mondiale. Terzo posto a 4 minuti e mezzo da Mancini per Niccolò Pietribiase, che per soli 8 secondi è riuscito a precedere Gerard Farrés e nell'ordine Massimo Chiesa e Glauco Ciarpaglini. I risultati della domenica hanno portato ad un nuovo avvicendamento al vertice del campionato. Andrea Mancini si è installato in testa al campionato con 6 punti di vantaggio su Matteo Graziani e 7 sul compagno di squadra Glauco Ciarpaglini. Grazie a tutti!